Non so se posso introdurmi negli usplantanti, non so se hai mai sentito parlare, comunque insomma è molto semplice. Siccome il nostro terreno è molto adatto per la coltivazione della castagna, è un terreno che favorisce lo sviluppo del castagno e siccome a quei tempi, però bisogna tornare indietro un pochino, si campava anche a castagne, oltre che a granoturco e a patate, fagioli, l'altro alimento era la castagna e quindi insomma anche se ne producevano tante, ma c'era sempre una necessità estrema di castagne perché era un alimento che serviva anche oltre che per le persone, anche per gli animali. Siccome praticamente dal livello del paese in su era tutto comunale, come non tutto neanche adesso perché ci sono anche tanti e adesso è anche privato, però una gran parte era comunale, il terreno comunale. Allora il comune cosa ha detto? Io do al privato una zona, scegliamo una striscia, un perimetro di metri quadrati e tu pianti privato, pianti il castagno, lo innesti, lo fai fruttificare e raccogli il frutto e la pianta e il frutto rimane tuo. Quello che cresce però diversamente, abeti, larici, betulle, cioè qualsiasi altro tipo di pianta che cresce, rimane comunale, come il terreno. Però questo qua ha favorito lo sviluppo del castagno perché tantissime famiglie hanno preso un appezzamento e hanno coltivato il castagno e questo è stata una cosa ottima perché diversamente qui, non so, forse qualcuno sarebbe morto anche di fame considerando la situazione per esempio come abbiamo adesso. Se non ci fossero altre possibilità, non lo so come è, con la malattia del castagno, poi penso piante non ce ne sono più, ma allora era tutto un castagnetto, era coltivato, poi una pianta moriva, la tagliavano ma ne mettevano subito un'altra, anzi prima ancora che morisse quella lì ne piantavano un'altra, veniva inestata e di solito mettevano due, veniva inestata tagliando un tronco così di piatto, poi uno di qua e uno di qua, veniva inserito due piccoli pezzettini con due gemme, ne mettevano due perché se falliva uno poteva andare bene l'altro, è per quello che si vedono tanti castagni con due, sono doppi, no? Proprio perché in genere poi attacchivano tutti e due, ma se una falliva magari funzionava l'altra e così, e questa, diciamo questa formula, naturalmente in comune è stato formato un piccolo catastino, un piccolo catasto, con nomi e cognomi, subalterni, numero di mappa, con tutte indicati, poi naturalmente sul terreno c'erano i scraf, chiamati dei segni incisi sulla roccia, oppure venivano piantati dei sassi a confine tra uno e l'altro, insomma per delimitare le varie proprietà, che era proprio proprietà diciamo nel senso di coltivare, ecco, di coltivare, non per altro, e in comune c'era, e erano, concessione d'uso, d'uso, e diciamo erano, passavano in successione, cioè dal padre passavano agli eredi e senza niente, non è che ci fossero, bisognava andare dal notaio automatico, bisognava segnalare, adesso il mio padre l'è morto, allora cosa facciamo, gli eredi Andrea, Fiorenzo, Silvano, eccetera, eccetera, ereditano questo appesamento che è considerato gli splantandi, che è stato suddiviso in tre parti, magari mettendo anche le misure, sul terreno sono stati impiantati dei segni a delimitare le varie proprietà, e quindi da Bognotti-Bortolo siamo passati a Bognotti-Domenico-Andrea, Bognotti-Fiorenzo, Silvano, faccio per dire il mio esempio, per farlo, e questo, diciamo, va avanti tuttora, sussiste tuttora, anche se di fatto adesso più che castagni c'è il ceduo, cresce il ceduo, e poi anche altro, un po' di tutto, perché insomma il castagno ormai, a parte quel parassita, ma non se ne cura più nessuno, non è che più nessuno va a innestare, io ho provato ancora lì nella mia messa, qualcosa è uscito, però poi alla fine è morta, due o tre piante sono morte, forse perché non avevo neanche spazio sufficiente per, comunque niente, adesso il castagno, la castagna non ha più, a meno qui a Celero, quello che c'è, insomma, è poca cosa, e poi sono piante vecchie, insomma, piante che andrebbero sostituite, e piano piano o cadono da sole, oppure si tagliano, io ne ho tagliate una anche quest'anno, due altre le ho sramate, però c'è poco da sperare, insomma, bisognerebbe ripiantare, però considerando i nostri tempi, quello che abbiamo in testa, hanno in testa adesso i giovani, non c'è da pensare che si pensi ancora di sviluppare... Comunque, per... non so esattamente quando è iniziato questo, ma credo risalga addirittura ancora all'Ottocento, al 1800, questa forma di... insomma, per riuscire a dare una possibilità e anche interessare, coinvolgere la gente, perché a quei tempi, come ripeto, era indispensabile per non morire di fame, perché qui si raccoglievano tonnellate e tonnellate e tonnellate, ma non hai idea delle tonnellate di castagne che si raccoglievano, e tutti avevano sti, sono detti sti essiccatoi, detti grat, così in termine, c'erano dappertutto, anche dentro il paese, però cercavano anche di tenere un po' isolate, perché facendo fuoco e fumo, con tutto di legno, insomma... Ah, è sti cattori però che funzionavano a legno, cioè... Sì, 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 mettevano dei ceppi, magari dei grossi ceppi, no, che non riuscivano magari, facevano fatica a dividere per mettere nella stufa, allora li lasciavano anche interi, li mettevano dentro, li coprivano magari anche un po' per far fumo, per fare calore, no, per consumarsi piano piano, il fumo e il calore saliva, e una certa quota c'erano tutti i legni, le travi, poi gli stoni, e sopra c'erano stese le castagne e piano piano si essiccavano. Ma quando si faceva questa cosa? Ma guardi, l'ultimo essiccatoio, credo sia del Corbelli, forse tre o quattro anni fa, prima dell'arrivo, lui ancora le metteva sulla gratta, no, sull'essiccatoio e riusciva ancora, poi macinava tutto. Ma andavano in buccia a te? Poi, quella era una fase successiva, ma se lei leggerà ancora quel libro, c'è tutta la storia, tutta la procedura fino ad arrivare alla farina. fino ad arrivare alla farina. Tutto il procedimento, cosa si faceva per, si andava al mattino, di notte, si andava a raccogliere le castagne sul confine, perché uno andava sul confine, allungava la mano, ma guardi che è vero, eh? Allora, per evitare questioni, discussioni, poi c'era un altro problema, qui c'è il confine, qui c'è piantato un albero, mia proprietà, qui altra proprietà, i rami arrivano fino qua. Chi è che raccoglie le castagne? E' sempre stata una guerra, perché allora, come ripeto, la castagna era una cosa da non credere, quello che valeva la castagna. E allora, guerre e veghe, continue, e naturalmente la cosa è rimasta così, perché poi la castagna è sparita e non se ne parla più. Però, se c'era un ramo che andava oltre, devo raccoglierlo io, perché la pianta è mia. No, è caduta sul mio terreno. E allora, insomma, ecco, c'erano anche queste veghe, ma veghe, né? Poi, qui, più avanti di qua, ci sono dei parecchi muri di sostegno, chiamate colle, no? E naturalmente, magari due o tre sono di un proprietario, poi sotto, in pendenza, un altro, a seguire, no? La castagna batte, salta e va di sotto. Allora, sul ciglio, venivano fatte delle scepi. Si andava a tagliare il ruer, che aveva, manteneva le foglie, il fogliame, si piantavano dei bastoni, si faceva la scepi, in modo che la castagna non rotolasse di sotto. E al confine di ogni, ma anche in verticale, anche se non era, anche in verticale, perché, come ripeto, uno allungava la mano, o di qua o di là, insomma, si rubavano le castagne. E quelle che cadevano sulle strade, non venivano schiacciate, a parte che i trattori non c'enevano, ma neanche le ruote, le carri, così, che non venivano, perché, come cadevano, sparivano. Poi, piano piano, lì, c'era la ledoga di Darfo, che estraeva il tanino, no? E allora, hanno tagliato, lì nella mia zona, ma un po' dappertutto, io ho su una pianta, ci vogliono in trepera per fare la circonferenza, e 4,60 metri di circonferenza, l'ho misurata poco tempo fa, 4,60 metri di circonferenza. Adesso, però, naturalmente, ho tagliato i due tronchi sopra, la famosa forcella, perché, siccome è vicino al casinale, e avevo paura, e tra l'altro c'è roccia dappertutto, e non so neanche come sia cresciuta una pianta del genere, in mezzo alla roccia, e se mi cade sul casinale, me lo riduce in una... E allora, comunque, insomma, c'erano delle bestie di piante, ma enormi, e le hanno tagliate, le portavano qui in Sianica, caricavano sui vagoni, e le portavano alla ledoga di Darfo per ricavare il tanino. Ma questo quando? Beh, diciamo, negli anni 50-60. Ah, a proposito di... Già allora qualcuno, o perché aveva bisogno di soldi, già però anche a quei tempi qualcuno, nonostante l'importanza della castagna, perché in quegli anni ancora era, insomma, era valida il fattore castagna, ma magari tanta gente, o perché vendeva il terreno, o perché aveva bisogno, insomma, di recimolare qualche soldo, vendeva le piante, vendeva le piante, e allora magari qualcuno anche approfittandone un pochettino, perché c'era sempre... e tagliavano, naturalmente, il tronco migliore veniva preservato, se non aveva delle fessure longitudinali, veniva preservato, perché il legname di castagno era, a quei tempi, era pregiato, nel senso che veniva usato nelle stalle, nelle cantine, per soffitti, perché resiste all'umidità, a differenza di altri dati legnambi che in pochi anni sono marci, il castagno resiste, e allora era... anzi, diciamo che qualcuno, più che la legna da portare alle doghe, cercava, sperava di trovare nel tagliare le piante, dei tronchi validi, proprio per fare delle assi, per tagliarle, portarle in segheria, per ricavare, oppure anche per fare anche, non dico mobili in casa, ma infissi, porte, finestre, così, perché allora poi le stalle, le cantine erano in uso, e quindi soggette a caldo, a freddo, a umidità, e quello era il legname che resisteva di più, quindi avevano anche un valore, ecco, e se tagliando questo castagno trovavano del buono, e anche il proprietario che vendeva poteva ricavarne qualcosa in più, e diversamente, diciamo, il termine era la mat, la mat, era un termine, cioè era, o c'era un cerchio, c'era magari l'anima centrale, no? Poi si staccava il resto, oppure c'era un segno longitudinale, una crepa, diciamo, chissà da che cosa, da che cosa poteva dipendere, che però, fare delle assi non era possibile, non era possibile. Grazie. Grazie a tutti.